Nel 2021 la spazzatura costerà di più ai cittadini sapresi. La notizia viene fuori dalla determina del 18 dicembre scorso che stabilisce i costi aziendali per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il 2020. Il costo complessivo è di 1 milione e 440 mila euro, 240 mila euro in più rispetto alla precedente annualità, un 20 per cento in più che farà lievitare la bolletta. Per gli utenti si prevede quindi un aumento medio pari a 35 euro l'anno. Chiaramente chi ha un locale di ampie dimensioni dovrà versare molto di più e chi ne ha uno di piccole dimensioni l'aumento sarà inferiore a 35 euro. Non è proprio un bel regalo di Natale per i sapresi ma è quello che gli arriva in dono dal palazzo comunale. L'opposizione rincara la dose ricordando ai sapresi che all'aumento dei costi per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti andranno ad aggiungersi i 210 mila euro che l'ente locale dovrà pagare per la transazione con il consorzio dei rifiuti Salerno 3 per un totale di 450 mila euro. Insomma il bilancio della città di Sapri si impoverisce e i cittadini dovranno contribuire a riequilibrarlo attraverso il pagamento di bollette più care. Un bel regalo di Natale afferma il gruppo di minoranza per una città sempre più povera.